Snodo importante il derby del Gran Sasso d'Italia. Il chieti del nuovo corso Gennaro Jezzo si sta preparando al meglio per farsi trovare pronto, sapendo di affrontare un avversario forte che ha le stesse ambizioni, rimanere aggrappato fino all'ultimo alla corsa a promozione. Sul fronte squadra l'undici iniziale non dovrebbe scostarsi da quello schierato venica scorsa nello scampolo di partita contro l'attritico Ascoli, sospesa dopo 20 minuti per infortunio all'arbitro. L'esterno Salvatore, escluso domenica, scalpita per riprendersi una maglia da titolare. Debutterà a centrocampo, probabilmente a gara in corso il neo acquisto Castellano. Tra i pali fiducia al terzo portiere Vitiello, visti i forfè di Antignani e Serra. Sulla partita sentiamo Matteo Ardemagni, l'attaccante che dovrebbe partire dalla panchina è ancora a secco di reti ma è pronto a dare il suo contributo a gara in corso e perché no anche a lasciare il segno. È normale che tutti i tifosi, tutta la gente si aspettano i gol dall'attaccante, è quello che non vedo l'ora di fare, non vedo l'ora di farne tanti per comunque far gioire questa tifoseria che ho notato sin da subito che è particolarmente calda e carica, quindi insomma sono pronto per questo nuovo inizio. Notizia di oggi, dopo i 300 biglietti venduti ieri in poche ore, ai tifosi neroverdi ne sono stati concessi altri 200.